Ma è uno schifo! Si, ma è uno schifo. È un'ingecenza, Ugo! Andiamo qui! Vacci sua! Vai tu a casa! Non ci scopi un paio! Alta la casa! Ma che se la fai? Ma che se la fai? Ma che se la fai? Questa è un locale serio! Fuori! Fuori! Via! Via! Fuori! Ma gli ari, andate a casa vostra! Ma fate queste cose!